buongiorno a tutti buon martedì mattina siamo sulla sonno sulla testa del bang laggiù bardonecchia tutto il bel comprensorio dello giafro qui davanti a noi la sua abbiamo la batteria con i pezzi da 149 dello giafro qui abbiamo un muretto molto probabilmente ottocentesco molto bello laggiù davanti a noi abbiamo la valle di rochemolle col pier menou lassù di fronte e la diga di rochemolle lì sotto qua davanti abbiamo il pier muret invece e laggiù abbiamo la bella val fredda testa del bang molto bella una bella zona la melmise laggiù si vedono i pilastri della batteria della b2 auguro a tutti voi una buona giornata